Ben ritrovati gentili telespedatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Quel giorno abbiamo vaccinato delle prime 45 persone, personale dell'ospedale, in particolar modo personale ad alto rischio di covid, quali gli operatori della terapia intensiva, delle malattie infettive e qualche operatore del territorio. Mercoledì ci sono arrivati nuovi vaccini da Venezia, da un cargo di Venezia, e ci hanno consegnato 1740 vaccini. Da qui ogni settimana fino a tutto settembre ci sono stati assicurati 1740 vaccini. che noi dovremo consumare in cinque giorni perché vengono trasportati a temperatura a meno 70-80 gradi, vengono messi poi in delle borse termiche e hanno una durata quindi di cinque giorni. Allora, partiamo dal presupposto che chi muore di covid sono soprattutto persone anziane. Quindi è fondamentale ed è prioritario andare a vaccinare tutti gli anziani delle case di riposo. Su cinque decessi che abbiamo di covid, quattro sono di persone che sono nelle case di riposo. Quindi quella è la priorità, perché quello vuol dire anche liberare i posti letto delle terapie intensive, vuol dire liberare anche i posti letto in ospedale e permettere all'anziano di stare tranquillo in casa di riposo. Unitamente dobbiamo fare tutti gli operatori a rischio sanitari perché sono quelli che curano il covid e quindi siamo partiti già giovedì con 150 operatori dell'ospedale San Donà, 150 operatori dell'ospedale di Jesolo. Abbiamo poi continuato sabato con 150 operatori dell'ospedale San Donà e 100 operatori del territorio, quindi distretto, silo, assistenza domiciliare, cure palliative e quant'altro, le usca soprattutto, del territorio del portoguarese. Viceversa, oggi facciamo l'ospedale di 150 all'ospedale di San Donà e 100 persone del territorio di Portoguaro. E comunque sono una rotazione un po' tutti ecco. E voglio dire che oggi iniziamo anche la prima casa di riposo, che è la Stella Marina di Jesolo, perché lì abbiamo pazienti covid convenzionati con noi cioè sono quelli che passano gli ultimi giorni dopo il periodo ospedaliero a Jesolo e sono praticamente guariti ma gli manca ancora qualche giorno. Quindi partiamo con quelli. Poi dalla prossima settimana iniziamo dalla Francescon di Portoguaro e ogni giorno facciamo una RSA. Quindi contiamo con una forte adesione da parte non solo degli anziani ma anche degli operatori delle case di riposo. Contiamo nel giro di qualche giorno, di una settimana, due settimane, perché sono 12 le strutture, di andare a vaccinare tutta la popolazione anziana a rischio. Beh, l'altro giorno si è negativizzata ed è guarita e sta bene una signora di 107 anni ricoverata alla casa di riposo di Caorle. Sì, oggi è nato il primo bambino, pesa tra i 55, è nato nel nuovo reparto covid dell'ostetricia ginecologia di San Donato di Piave. La mamma era positiva, il bambino è nato sano, a posto, gli operatori tutto bene, la mamma è felice e abbiamo un nuovo nato. Finora c'è un altissimo percentuale che aderisce al vaccino, praticamente del 100%. I carabinieri di San Donato di Piave hanno eseguito sette misure cautelari a conclusione di un'inchiesta della Procura Lagunare per incendi dolosi, estorsioni e spaccio di droga. All'operazione sono rimasti impegnati anche i militari delle compagnie di Porto Gruaro, Mestre e Chioggia e del quarto battaglione Veneto e delle unità cinofile del nucleo di Torreglia. A capo della banda c'era Luciano Maritana, nipote dell'ex boss della Mara del Brenta Silvano. Ma non basta, fra le persone arrestate c'è anche il padre di Maritana, fratello di Silvano e quest'ultimo, seppur in carcere, sarebbe coinvolto nel caso. Le indagini alle quali hanno contribuito il ROS sono iniziate dopo due atti intimidatori a San Donato, a gennaio e a settembre del 2020, nel corso dei quali erano stati incendiati due furgoni di una ditta nel settore dell'assemblaggio di minuterie metalliche. I carabinieri hanno, tra l'altro, raccolto gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico degli indagati, individuando in una 48enne l'esecutore materiale degli incendi, e nel 55enne il mandante per un vecchio credito mai onorato. L'estorsione ha visto coinvolti anche altri indagati responsabili di gravi e pressanti minacce alla vittima. Nel corso dell'indagine si è poi appurata la presenza di un'altra persona, sottoposta a richieste di estorsione per un mancato pagamento di una partita di droga. Sbrenata da due cani di grossa taglia sotto gli occhi sconvolti dalla sua padrona, è stata una scena straziante quella a cui ha dovuto assistere impotente Ornella Verardo, una donna residente nella frazione di Summaga a Porto Gruaro. Qualche giorno fa due cani di grossa taglia, forse dei pitbull, inspiegabilmente liberi, l'hanno raggiunta a tutta velocità mentre era in passeggiata nella centralissima Via Franca con la sua cagnolina Mila, un incrocio di Yorkshire. I due cani hanno prima buttato a terra la donna e poi si sono accanniti sulla piccola cagnetta, sbranandola fino alla morte e utilizzandola come pupazzo con cui giocare. Una scena cruenta che si è protata per alcuni minuti e che ha impietrito la donna ancora sotto shock. Per fortuna ha raccontato il marito Ugo Bialzon, dipendente della Purina Nestlé. Altre persone che hanno assistito all'episodio hanno tempestivamente contattato i carabinieri e la polizia locale. Prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, i padroni di due cani sono arrivati sul posto a bordo di un'auto e di una moto, hanno recuperato gli animali e se ne sono andati senza attendere l'arrivo della polizia, tantomeno accertarsi di come stesse mia moglie. Sono stati davvero irrispettosi. I due cani, dalle prime indagini della polizia locale, sono risultati essere regolarmente microcippati. I proprietari rischiano comunque una sanzione. Del caso, che ha sconvolto l'intera comunità summaghese, è stata interessata anche l'Ulse 4, che dovrà verificare come vengono custiditi i due possenti animali. Biason e la famiglia stanno attendendo i verbali dalla polizia locale per poi capire se siano assicurati. La nostra ammila ci manca moltissimo, purtroppo, ha aggiunto Biason, e non è la prima volta che questi due cani si avvicinano ad altre proprietà. L'episodio, tra l'altro, poteva essere ancora più tragico. Ad essere sbranata poteva essere mia moglie, che è ancora sconvolta non solo perché ha ancora davanti agli occhi la scena e l'aggressività dei due cani, ma anche per chi ha capito di aver rischiato grosso. Lavoro in un'azienda a cui il benessere e l'amore per gli animali è emesso in primo piano. I miei colleghi mi hanno espresso la loro vicinanza e solidarietà. Questi fatti, ha concluso, non possono passare sotto silenzio. In questa strada ci sono spesso mamme, con bambini o altre persone con il proprio cagnolino. Questa volta non basteranno certamente le scuse. Alessandro Berton, presidente di Union Mare Veneto. Presidente, questo 2020 si conclude con una nuova azione di erosione della costa dovuta al maltempo. Com'è la situazione della costa veneta e quanto è urgente un'opera di sistemazione? Purtroppo, appunto, in queste ore tutta la costa è stata colpita dall'ennesima mareggiata che ha evidenziato ancora una volta la fragilità del sistema delle coste e del Veneto in particolare. È arrivato il momento di pensare ad un piano infrastrutturale per la protezione della costa, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche e soprattutto per salvaguardare e mettere in sicurezza la grande macchina del turismo balneare del Veneto. Per questo noi chiediamo che venga finalmente ripreso il ragionamento sulla creazione di un capitolo di spesa all'interno del bilancio regionale agganciato al turismo e dedicato alla salvaguardia di questo comparto economico. Il 2020 si sta chiudendo. Che anno è stato per la stagione balneare di tutto il Veneto? È stato un anno sicuramente difficile come mai si era registrato prima. È stato un anno anche di soddisfazioni perché sono orgoglioso del grande lavoro che assieme a tutti i colleghi delegati della nostra associazione sulla costa siamo riusciti a fare. Lavoro che è stato fatto e sforzo che è stato profuso per concepire un nuovo concept delle spiagge, per ridisegnare una nuova visione dei nostri stabilimenti balneari, dei nostri campeggi. Tutto questo per consentire alla grande macchina del turismo veneto di ripartire e di mettere in atto quella grande capacità occupazionale. Dobbiamo continuare in questo senso per guardare al futuro con speranza nonostante le difficoltà. È stato un anno difficile come hai ricordato, però è stato anche un anno positivo per la grande famiglia di Union Mare Veneto a livello regionale. La famiglia di Union Mare Veneto continua a crescere, a testimonianza che il lavoro svolto e gli sforzi profusi sono stati apprezzati proprio la settimana scorsa. Nel direttivo di fine anno abbiamo accolto due nuovi ingressi, due nuovi soci, l'isola di Albarella e la delegazione di Lido Altanea, località sulla costa tra Caorle ed Eraclea. Siamo soddisfatti del fatto che la squadra continua a crescere perché questo ci permetterà di essere ancora più forti, ancora più incisivi nel portare avanti la visione di rinnovamento del comparto balneare che già quest'estate ci ha premiato e quindi di cercare di tradurre le grandi difficoltà dovute dal periodo pandemico, da questa situazione che è ancora imperversa, in un innalzamento del livello della qualità dei servizi che da sempre caratterizzano l'offerta turistica dei balneari del Veneto. Con Maria Teresa Rett, consigliere comunale di minoranza a Portuguaro. Lei ci vuole parlare oggi di un problema che non ha colore perché stiamo parlando delle mense per i ragazzi della scuola. Cos'è successo? È successo che la vigilia di Natale è stato pubblicato sul sito del Comune di Portuguaro la comunicazione che il servizio, la tarifa delle mense scolastiche avrebbe subito e subirà un aumento a partire dal primo gennaio di 90 centesimi a pasto. Ora questo solleva una serie di questioni. A parte il fatto che 90 centesimi a pasto per bambino significa una media di 18 euro in più al mese per bambino e per famiglie che hanno due o più bambini che mangiano tutti i giorni per otto mesi all'anno in mense, insomma è un aumento considerevole. Al di là di questo, quello che ci ha stupito e ci ha portato come gruppo civici e democratici a presentare un'interrogazione in merito è innanzitutto la modalità di comunicazione, nel senso che se è vero come si evince che già al momento della gara e dell'aggiudicazione alla nuova ditta questo aumento era previsto, perché non è stato comunicato prima e perché una volta conosciuto l'importo esatto dell'aumento il comune non abbia fatto comunicazione nella sede deputata e cioè durante la prima convocazione della commissione mensa che è stata fatta il 16 dicembre e sappiamo per certo che l'importo esatto dell'aumento era già noto perché comuni limitrofi avevano già comunicato l'importo. Il 4 gennaio zona arancione, poi torniamo il 5 e 6 in zona rossa. Mi è stato chiesto se delle persone possono andare a trovare dei parenti nei comuni friulani. Ora questo da parte dei San Michelini non è possibile perché l'unica deroga che ha messa è quella di partire da un comune che non abbia più di 5.000 abitanti e che non sia più distante di 30 chilometri. Quindi San Michele verso il friuli Venezia Giulia anche se siamo confinanti purtroppo non ci si può spostare verso quelle destinazioni. Cosa diversa e credo di averlo già detto è se ad esempio un residente del comune di Palazzolo dello Stella volesse raggiungere alcuni parenti a San Michele Tagliamento. È sicuramente un comune inferiore a 5.000 abitanti e è sicuramente in un raggio di non oltre 30 chilometri quindi può farlo. Ricordo non più di due persone, non più di una visita ad un'unica famiglia e con le regole quelle rimangono tal quali. Ho avuto modo in questi giorni di chiamare alcune persone referenti del volontariato delle varie frazioni per preavvertirli che firmerò un'ordinanza che vieterà i falò o le foghere che dir si voglia. È una questione di prudenza, l'abbiamo decisa tutti i sindaci insieme del Veneto orientale perché appunto dobbiamo cercare di fare il massimo per non alimentare ancora il contagio. Quindi è una notizia che naturalmente non fa piacere dare ma è doveroso in questo periodo completarsi in questo modo e devo dire che le persone che ho contattato mi hanno dimostrato comprensione e solidarietà per questa mia decisione. Chiudiamo con una cosa bella. Pochi minuti fa ho avuto modo di parlare al telefono con la signora Corinna di Vilanova della Cartera, una signora che oggi compie 101 anno. È stata una graditissima telefonata, una persona piacevole, lucida, precisa e alla mia domanda come avrebbe fatto a far stare tutte le candeline, 101 candeline nella torta, mi ha risposto che lei ne metterà una perché altrimenti servirebbe una torta veramente troppo grande. Bene, questa è una notizia fantastica che crea speranza, ottimismo perché abbiamo avuto modo anche un po' di dialogare su alcune questioni e anche era un po' dispiaciuto naturalmente che i nipoti da Morsano del Tagliamento non fossero potute venire oggi che siamo in zona rossa. Insomma spero che anche per lei come per tutti noi passi il più presto possibile questo periodo e tornare alla nostra bella normalità. Non ce l'ha fatta il cignoreale recuperato ieri nella proprietà visentina col Francui. Il volatile, un bel esemplare giovane, è morto dopo essere stato trasportato a Conegliano da un volontario dell'EMPA. A ritrovarlo spaventato mentre cercava di nascondersi sotto del legname era stato Franco Visentin che sabato mattina si era recato appunto alla casa di famiglia nei pressi del fiume Lia. Il cigno era accucciato all'esterno e nel timore che fosse ferito l'uomo ha cercato di mettersi in contatto con qualcuno che lo potesse aiutare. Ho passato gran parte della mattinata al telefono racconta la moglie Vanna Zanini componendo numeri che squillavano sempre a vuoto. Alla fine grazie al gazzettino ho avuto il contatto dell'EMPA. L'ente a sua volta ha messo la signora in contatto con un volontario di Conegliano che è così arrivato a Colfrancui. Il cigno era vigile racconta il volontario Giuliano non presentava ferite solo che, cosa molto strana, non si difendeva. I cigni sono molto reattivi, allargano le ali, tentano di beccare. Ma il cigno non ha fatto niente di tutto questo. Sembrava molto spaventato, tentava di nascondersi. Per questo l'ipotesi è che fosse stato terrorizzato dai botti e che il cuore ne sia stato danneggiato in modo irreversibile. Altra ipotesi è quella dell'avvelenamento da piombo. I cigni frugano con il becco i fondali e possono raccogliere i palini di piombo sparati dai cacciatori. Si depositano nello smeriglio ed avvelenano l'animale. C'è pure l'ipotesi che abbia ingerito un boccone avvelenato, aggiunge Adriano De Stefano di Empatreviso. In questo caso è urgente intervenire con l'autopsia del cigno. Se c'è l'avvelenamento da boccone bisogna isolare la zona. Gli argili sono percorsi ogni giorno da molti animali di compagnia, oltre che da persone, senza contare tutte le bestiore selvatiche. Dopo la morte il cigno è stato preso in consegna dalle guardie zoofile che lo invieranno all'istituto zoo profilattico. È importante capire di cosa è morto per la tranquillità di tutta la comunità, insistete Stefano. Voglio anche evidenziare la grande difficoltà che si è venuta a creare con la sospensione dal primo gennaio del servizio provinciale di recupero della fauna selvatica in difficoltà. Viene lasciato tutto al buon cuore e alla disponibilità dei volontari. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Rimanete con noi, alla prossima!